Ehi ma questa partita è già vinta ragazzi Diana broken, Diana broken altro che Non abbiamo Yasu mid pro, Diana Yasu imbattibile come combinazione Ciao spaghettino, salve 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 Come mai oggi ero in orario? Veramente in ritardo anche oggi Cioè ma ve l'ho detto per colpa del furgoncino della team ragazzi Che stava facendo qualche... Che cacchino ne so che stava facendo vicino lì al... Boh, 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 boh Era molto sospetto comunque, l'ho osservato L'ho osservato Pensa che stavo per farci una storia Poi ho lasciato perdere Perché la connessione è tornata No te lo giuro, te lo giuro, era davanti a me Era davanti a me Vabbè la prossima volta farò la storia perché se no non mi credo Brutti schifosi Credo proprio di sì like Ah, yeah sure Aspettate che al tabo per discord che me l'ha chiesto il buon gin Allora Allora, allora E mi si è bagato lì credo Grazie per il tab Grazie Vgo Meno male Meno male, meno male, grazie Allora Ma questo clad è che gioca a Barrier Ignite Ok Mi viene un po' solo io questo ragazzo Nella season 2023 gioca lui Già adesso Avanzatissimo Avanzatissimissimo Ciao 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 Alessandro Ciao 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 Grazie È stato un po' sempre Si è stato un po' sempre Si è stato un po' sempre Mi sento che tu avessi il challenger e ho fatto il main Sì 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 Grazie Si Ho troppo ma avrei regalo oggi Sì 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 Poi Sì Sì Oh Sì Sì Ma perché è Leblanc's offlane? What the fuck? Ah, ho no idea Per il Jesus, è Diamond Diamond è la Liga di Jesus Ah, questo dovrebbe essere la mia Liga, allora Non so come ho avuto più È carino, è carino Stai ancora aspettando Zyra, prima o poi la giocherò È così, è così È il buon Riko È il duo più carino di Liga Sì I honestly wanted to play Zyra myself Since she got buffed And I wanna practice her again for comp But therefore respect her Oh, yeah, that's why you said Fuck or something Yeah, yeah Thought so, yeah, thought so I gotta go read patch notes I didn't just yet Oh, okay Shivana got buffed Oh, yeah, true, maybe I can play Shivana again Yeah, yeah, because I know you like to play her Yeah, definitely Grazie anche le poll, ragazzi Bio Eh, boh, se ce n'erano altri Eh, in caso anche solo a te, Bio, comunque Miglior campione per iniziare? Dipende dal ruolo Le cose facili, le cose facili Se non le conosci, le chiedi a noi della chat Qualcuno ti verrà incontro Vuoi sapere cosa ti diranno? Fanno sempre questo scherzetto Dicono La cosa migliore è non iniziare In case in tempo Haha, fa veramente ridere Lo dicono sempre 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 È un vizio proprio I think since I was topside, right? Yeah, yeah, okay Oh, I got the blue buff Huge Yeah, speaking of cheese You know I think I'm like Clannis Or Irelia, by the way I think I'm dead Fuck Yeah, I think so too Am I? Yeah I'm definitely dead I mean, the outcome is somehow okay Because the blank Yeah, it's not too bad You got blank Yeah Maybe you can suicide I was thinking, but it was suiciding Wait, you actually got them? Yeah, but I'm so dead now Oh I mean, it's so clean You still got one, no? Yeah, I got one I got one and Got some time That's okay, that's okay Yeah I got the exp bonus I'm happy with it Irelia non sarà felicissimo Cioè, Kled non sarà felicissimo But I'm happy Our Kled running TP barrier Seems really naughty Yeah, the Kled is like Living in I don't know It's so scary to play against in lane Yeah So scary for us You main Yeah Kinda Because we have naughty P no flash But in the same time We have skill pressure Which is also Yeah, yeah I love Jesus It's a bit of a flip lane Because of the similars Right? Yeah I'm battling with you guys Yeah, that's fine We win this We win this Why is Karma flashing again? I don't know She should flash in like that Yeah Yeah, we will get in the mode Yeah, yeah Nice one I can Q finish maybe But Yeah, yeah I can zone Yeah, yeah It's okay It's okay Take this, yes I won't tax you Of course Oh really? Man, you've changed What the hell? I will never tax you Something happened Too many people started leaving your games after you taxed them Yeah Yeah Sometimes it happens Yeah, I mean Beak is only getting toxic More toxic with the V8 So I can imagine We already got 2 playings about 5 minutes in I'm gonna be massive You managed to pay this guy? Oh yeah This guy is in Holy shit Yeah, yeah, he's dead as fuck Do you need help to show? Yeah, yeah, take it Take the wave Sorry? Yeah, let's share, share, share No, it's fine I'm really, really broken Take it Oh no Oh no, the cannon Tragedy It's okay, no one saw Yeah, no one saw Let's move on No, no, no But it will be the morning It will be the morning It will be the first game Oh my god, look at my items Jesus Christ But it's always different Yeah Shout out to Ezreal I'm sorry for the enemies Yeah Really nice I think I do have ult, we can chase them back lane if they stay Yeah, yeah, I'm down for that Okay, I'm on my way I don't know why the support left Oh, guy's here Oh, yeah, yeah, we can kill him, no? Yeah, yeah, oh Yeah, he's dead as fuck Nice Nice What blade? Oh, this guy is killing me Oh, I should have helped you Contest No, I'm fine, I'm fine, I'm fine Okay, okay The wave is slow pushing into us Like, yeah In realtà non ha mai minato Jhin Anche se si chiama Jhin Just so you know, we can freeze it Cioè, forse per un breve periodo Ah, il suo main è Kaiso Eh, te lo giuro, te lo giuro Anche se si chiama Jhin Zane Ha sempre giocato altro Oh, Klaida ha misato l'ultimo Ha flashato via quello lì Yeah, you got this, Tom Grazie se vi del pollo Oh, hanno preso Xhin Oh, e... Pepega Pepega al massimo, Pepega, poverino Eh, mica ti dico shuketze, ue 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 Io anche sono bello chat, eh Le blank l'abbiamo presa Andiamo a invadere il blue buff Anche se non ho ultima, eh Non ho top lane prime, ma whatever Siamo fiddati e sicuri Confident Quindi se non si ha fatto la scatola Ma se non si non ci sono Se non si è vero Il caso di se non si è vero I'va proprio a priori bot lane I'm gonna reset Into Just pressuring I'm 2 levels up on Xayah Ah, Duxinia, non so He's also very, very behind It' up to you Yeah, true no noice i think we can close out the game before we can so anyways but the fact that that top lane is doing quite good makes me uh think about dragon more okay we can pretty much take everything yeah yeah i guess i trust your judgment anyways aww i don't have smite so maybe that's like the worst timing possible to the drape but hey i'll just turn on zillion he's level 5 okay yeah if he bolts up take drake it's fine oh yes we have item mazer l'ha smarfata ma ha premuto un tasto come l'ha smarfata ha pigiato un bottone ha pigiato e tra l'altro forse pure male no in realtà prima era in cooldown mi pare ha cliccato bene la r click e' il classico hot play button e tu hai sculato io invece ho calcolato play for herald yes i'm gonna kill l'irelia real quick and then yeah okay okay i'm very very chad so she can do anything oh oops oh i'm uh i'm dead i messed up it's okay whoops i did a whoopsie i see he flashed forward in the tower always deep always deep yeah yeah this was not the player i was looking for abbiamo fatto cinque plate in non lo so venti secondi ma certo diana broken e' la passiva vieni qua patati da una mano oh i think i'm in trouble and i 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 Stavo aspettando Volevo vedere la giocata Non ci ha mostrato la giocata Maledetto Chissà se si è accorto Di le blanche Se no io non si è accorto La mia mappa Rated per i top laner E infatti non si è accorto Ma che è sto strumentopolo Direbbe un top laner Uh guardalo col barrier Geniale Stavo trattando Stavo trattando Stavo trattando Stavo tutti i blu Sì Stavo 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 Vai cleddolo Niente cleddolo mi sa Oh mamma che danni I'm so fat man, nearly got middle mana already to get out very first, I'll just go middle now Okay I'm gonna play side out mid lane okay, okay yeah that's good that's fine Non mi dimenticherei mai dell'era ragazzi, però potevo prendere il Mejai Non sono dimenticato di quello, ma vabbè che ogni volta che prendo il Mejai inizio, cioè io comunque inizio sempre sullo smartphone Quindi il Mejai finisce spesso sprecato Ci fa con la power world lì I'm gonna kill Irelia and then put towards you guys Ma mi domando, ho smiteato lei? Dovevo sfruttare l'ate ma mi sono strato Mi ha fatto quasi prendere un colpo tra l'altro Mi ha fatto quasi prendere un colpo tra l'altro Oh no Non mi piace è vero è vero ok, abbiamo played Dianna ha stato molto forte in questa matcha sì, ha stato davvero forte a quanto tempo Dianna-Yazzo è stato molto forte è anche insieme se si playa con me tutti insieme è vergogna sì, certo non couturplai sì, concre Oh no, ero distrutto Stavo guardando il mio shop Sì, dovremmo usare Oh Hai visto? Meglio così ragazzi, così non ho la tentazione di comprare il megei Se invece non fossi morto con i 10 stag dark CL Ce l'avrei avuto a come la tentazione No, 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 Tom, don't do that I don't really enjoy smarking in desilo Grazie nucai dei mesi It's only for a tiny bit Allora Ma Balzer Adesso Ma questo è Britz Sbaglio si è fatto bannare proprio questa frase Un amico di Britz Ma Our mother is a bit upset, I guess He's not enjoying the game Oh Yeah, I don't know man Questo è escalato molto veloce. Ah, c'è stato molto divertente. Stavo giocando botlane Yasuo, in la mattina, con un amico. Stavo giocando Dua, e c'erano top laners, c'erano top laner, gli enemy avevano Mordekaiser, e stavano flamando l'altro, ma è stato molto divertente. E' 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 stato molto divertente. Molte persone parlano solo delle parti negativi, ma può essere molto divertente, specialmente con queste persone. E' stato molto divertente. Ma alzar premi la R, un bottone, devi cliccare un bottone. C'è letteralmente un bottone doveva premere, ragazzi. Grazie di sei metti, Aikon ancora. Abbiamo chiamato Kidd delle Blanc, ma... il mazar era abbastanza dormito. Sì. Non credo che dovrei venire così profondo con la mia squadra, in mid lane. Devo dire che ho anche fatto un errore. Possiamo solo giocare per Drake, i nostri stati non vengono. Sì, ok, vabbiamo. Sì, ok. Sì, ok. Sì, ok. Si, ok, ok. Sì, ok. Sì, ok. Sì, ok. Sì, ok. No, 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 no! 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 I missed too many skills, I trained. Fuck, dude! Ok, let's get Drake! Yes, yes! It's ok, I know all my three deaths are... Giga Limit deaths, it's fine. Yeah, that's how you do it in solo queue. always go for death honestly i planned to go to the game having zero deaths but i got greedy three times now but i know i wouldn't have done it in scrim so it's okay it's okay i forget myself yeah you should definitely is there any way that we can duo baron? yeah definitely we can rush it wanna do it now? like they are actually longs rotating bot as well i have a pick worth i do a sweeper but hopefully it's not worth it inside grazie Henry okay let's go wait actually i don't know wanna finish? yeah yeah finish i should have trusted you more that's okay that's okay i don't really know my damage but i'm just oh okay okay but how did they know? like the heck? wait she's actually not going back okay my bad i'm not sure if i can chase her nope nope she's over there probably i don't know i mean she can't w you if she w's you w you kill her no? i think yeah yeah one shot her yeah 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 exactly did she go there? yeah 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 look she's still dead yeah poor guy wait shut down? seriously? she was so fed yeah shit yeah apparently i didn't even know myself either yeah what? alla fine ho ceduto la tentazione ragazzi yeah yeah really balanced the diana tankiness indeed with conqueror under w thank you i should get executioners i think versus sinza with gore drinker and uh the items of aurelia yeah cool down va bene va bene ragazzi yeah you're a monster man it's just a champ yeah it's just a champ yeah it's just a champ i don't think he could've done this on any other champ whatever i'll just end let's get into a new one no she dashed away with gapers fuck this is real jungle dick wow boost my ego grazie grazie yeah maybe dead sleep it's a bit greedy of me again yeah i went into the enemy fountain but it's whatever no no we can't end because of it i don't know is this winnable for them? yeah i guess who can tell solo più miracle miracle run 20 gold dall elisir e anche se vendri a heal così non peccato ok gore it gore it adesso abbiamo un po' di burst damage abbiamo vorrei provare a fare 1b5 nella loro base il problema è l'ulti di forse zillion il suo slow anche forse è più che l'ulti il suo slow onestamente I don't know if we can solve it I think we can because of the nips it doesn't really matter too much I guess it's out of sight 680 ma non c'è il bulbo we grazie brava gianni grazie grazie ha 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 non c'è il Sì, è prendendo la wave, sì. Sì, è prendendo la wave! Per il nexus! Oh, io ti scendio? Ma non credo che... È un po' troppo per me? Cioè, i controlli sono bloccati a questo punto. Che posso dire? Ehi la, ehi la! Cos'è che mi ha fregato? C'è qualche controlli noioso ragazzi c'era. Oh, oh! Cos'è che mi ha lo stun di cosa? Irelia o a Zillian era? Ah, hai ottenuto questa buona volta. Sì, sì, ma non ho X ancora. Oh, 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 sì! Sarà statolo solo di Zillian a fregarmi. Wupsi, wupsi. I made it slightly longer. Sì. We're kind of wasting time in this game. La chiudiamo, la chiudiamo, la chiudiamo. No, ma un OB5 lo potrei... Cioè, se avessi... E che XI ha l'ultimate, Zillian ha l'ultimate. Hanno troppe cose per prendere tempo. Altrimenti riuscirei a fare un OB5. Non c'è un GA. Cioè... Se avessi che coni ma è facile, no? Air baiting. That's very nice. 5 ad bait. Nice male bait. My dead's... Wait, my penta. My dead. Oh no! Sage. Feels bad, man. Yeah. He does. You deserve it. bene ok I'll go play a bit with my main account now But if you're up like lunchtime I can play on my smartphone again Because I'll be tired Sounds good dude I hope you win on your main Thanks for the game And be safe Yeah See you soon man Bye bye Talk to you later dude See ya E va bene va bene va bene Diana game anche divertente Diana in generale è divertente Dovrei imparare a giocare Diana comunque Perché è davvero fortina